Eccoci qua, Rock al Centro Contest, siamo col secondo gruppo che ha appena finito di suonare e siamo con gli Entele, adesso vi le presentiamo uno per uno Francesco, chitarrista, Marco, bassista, Paolo, cantante, Matteo, batterista, Francesco, chitarrista Grande, grande, questi ragazzi hanno leggermente spaccato il palco perché se sentirete un po' più avanti non è che suonano qualcosa di molto leggero Esattamente Come si può definire il vostro genere? Guarda, influenze diciamo metalcore, il genere più vicino è metalcore, diciamo quello che ci si avvicina di più, non è esattamente quello però ci si avvicina diciamo Ma il vostro, da quanto è che suonate insieme e perché vi chiamate esattamente Entei? Allora, inizialmente il progetto, allora è nato nel 2010, inizialmente si chiamava Spitfire facevamo genere tipo Rock, diciamo Ardenevi poi mano a mano il genere si è evoluto, c'erano altri componenti che si sono un po' distaccati dal genere quindi sono stati sostituiti Avete preso una linea? Diciamo, sì, abbiamo preso una linea più pesante, più moderna e Entei in italiano significa lascito e quindi quello che abbiamo suonato questa sera è il nostro lascito a voi, diciamo Grande, grande Ma invece un'altra cosa avete, ho sentito che avete fatto, ho sentito, ho visto che avete già fatto un EP, un disco? Sì, sì Dove l'avete registrato e quando l'avete fatto? Ecco, come si chiama poi il titolo? Ok, guarda, lascio parlare il dottore Lascio parlare a me, Francesco, chitarrista, stenzione Ah, questo cos'è? Ecco, ecco Cos'è, chi è questo? Non faccio gli onori di casa Allora, il CD è stato registrato, sì, questo è il disco, L'Ice of a Freeman, 5 pezzi e è il nostro, diciamo, biglietto da visita che abbiamo registrato in Svizzera presso il JDM Studio, mixato da Marco che lavorava su Il nostro attuale bassista Il nostro attuale bassista Rubato Ma a Svizzera? No No, no No, lui è dei Castelfidardo, quindi lui lavorava come fonico Poi è tornato La cosa nasce cosa La cosa nasce cosa e quindi, insomma, adesso abbiamo trovato una formazione stabile E appunto è stato registrato in Svizzera e adesso stiamo organizzando altre serate, una tournée, speravamo di riuscire a organizzare una tournée nell'Italia, anche fuori per riuscire a presentare questo EP, sempre questo Lies of a Freeman Lasciaci pure dei contatti in modo tale che vi possiamo seguire a Facebook Ok, allora, ci trovate molto presto al nostro sito ufficiale www.entail.it E ci trovate attualmente sulla pagina Facebook scrivendo www.facebook.com slash entailrock Entailrock, così lì sarà aggiornatissimo Esatto, troverete tutto quello che vi serve sapere Presto troverete anche le tracce online e quindi potrete anche ascoltare qualcosa di questo EP online Perfetto, vi è piaciuta la Pesor, l'ambiente locale? Come siete? Bellissimo Ci siamo innamorati del... Ci siamo innamorati del... Ringraziamo gli Entail Inizio al prossimo gruppo, grazie ragazzi, in bocca al lupo Ci sentiamo online o dal vivo, grazie mille Grazie a voi Ciao, ciao, ciao